Avevano promesso che la circolazione su via Morgan sarebbe stata ripristinata e così è stato. Dopo l'apertura dei lavoraggi in Alvomero lo scorso 21 febbraio si è dovuto attendere il 30 marzo, la vigilia di Pasqua, ma il cronoprogramma proposto dal comune è stato rispettato e l'asse fondamentale per il collegamento con la zona di San Martino è tornato a disposizione dei residenti e passanti. L'idillio però ha avuto vita breve. Nella mattina di Pasqua infatti si è subito registrato il primo principio di avvallamento sull'asfalto fresco di consolidamento. Il ripristino della viabilità su via Morgan in ogni caso è stato accolto con favore dai residenti del quartiere collinare. Qua meno male che hanno fatto bene a dividere la strada, altrimenti qua si arrivava con l'elicottero, non so se ci stanno da queste parti. Continuiamo ancora un po' a soffrire perché il disagio si sente, purtroppo è una città complicata Napoli. Devono pensare che il vomero sta cadendo a pezzi e non aggiustano il vomero se ne cade qualche giorno di questi se andiamo direttamente a Marzellina. La cosa che rimane un po' triste è il fatto che gli abitanti del palazzo stanno ancora fuori, non è una cosa bella, dovrebbero fare ancora di più. E' proprio quello degli sfollati è un nodo che persiste ancora oggi. Non è ancora stato rilasciato il certificato di cessato pericola ai condomini del civico 63 di via Morgan. A oltre un mese e mezzo dall'apertura della voragine in strada, decine di persone sono ancora senza casa. Le stesse che non hanno avuto modo di rientrare nelle proprie abitazioni neppure nella giornata di Pasqua, durante la quale sono scese in strada in protesta con gli esponenti dei Verdi. All'orizzonte, sfortunatamente, nessun cenno di cambiamento.